Lettera a Lucilio Riconosco che è innato in noi l'amore del nostro corpo e riconosco che ne abbiamo la tutela. Non dico che non bisogna averne riguardo, dico che non bisogna esserne schiavi. Se uno è schiavo del proprio corpo e teme troppo per esso e fa tutto in sua funzione, sarà schiavo di molti. Comportiamoci non come se dovessimo vivere per il corpo, ma consci che non possiamo vivere senza. Se lo amiamo più del necessario, siamo tormentati dai timori, oppressi dalle preoccupazioni, esposti agli oltraggi. Colui al quale è troppo caro il proprio corpo, tiene in poco conto la virtù. Abbiamone dunque la massima cura, tanto però da essere pronti a gettarlo nel fuoco quando lo richiedano la ragione, la dignità, la lealtà. Non di meno, per quanto possibile, evitiamo anche i disagi, non solo i pericoli. E mettiamoci al sicuro, pensando di volta in volta come si possono allontanare i casi più temibili. Questi, se non sbaglio, sono di tre tipi. Si teme la povertà, le malattie, la violenza dei più forti. Tra tutte queste, ad atterrirci maggiormente è la minaccia del potere altrui, poiché si presenta con grande strepito e fragore. I mali naturali cui io ho accennato, la povertà e le malattie, si insinuano silenziosamente e non spaventano. Non li vediamo né li sentiamo giungere. Il male che ci viene dagli altri, invece, arriva con un grande apparato, ferro, fuoco, catene, blanchi di fiere per fare scempio delle vittime. Pensa ora al carcere, alla croce, al cavalletto, all'uncino, al palo ficcato nel corpo fino ad uscire dalla bocca, alle membra lacerate dai carri lanciati in direzioni opposte, alla tunica intrisa in tessuta di materiale infiammabile e a tutte le torture che la ferocia umana ha scogitato. Non c'è perciò da stupirsi se un male che a forme diverse e un apparato raccappricciante spaventa tanto. Infatti, come il carneficio ottiene di più se mette in mostra più strumenti di tortura, spesso, e cosa nota, soccombe alla vista uno che al dolore avrebbe resistito. Così, tra le sciagure che fiaccano e domano il nostro animo, hanno maggior forza quelle che si presentano con grande esteriorità. Ci sono disgrazie altrettanto gravi. La fame, intendo, la sete, le ulcere interne e la febbre che brucia le viscere, ma sono occulte e prive di minacce evidenti. Le altre, invece, sono come le grandi guerre. Si vincono con un vistoso spiegamento di forze. Cerchiamo, dunque, di tenerci lontani dai mali. A volte è il popolo che dobbiamo temere. A volte, se in una città vice la norma di prendere in Senato la maggior parte delle decisioni, dobbiamo temere i senatori influenti. A volte singoli individui, cui è concesso dal popolo il potere sul popolo. Avere amici tutti costoro sarebbe faticoso. È sufficiente non averli nemici. Perciò il saggio non provocherà mai l'ira dei potenti, anzi, la eviterà. Come in navigazione si evitano le tempeste. Diretto in Sicilia hai attraversato lo stretto. Il pilota temerario sfida l'austro minaccioso che sconvolge il mare siciliano e crea pericolosi vortici. Non tiene la rotta a sinistra, ma si dirige là dove Cariddi agita il mare. Il pilota più prudente, invece, chiede a chi conosce il posto e la direzione delle correnti e quali indicazioni diano le nubi. Tiene la rotta lontana da quella zona tristemente famosa per i suoi vortici. Così fa il saggio. Evita i potenti che possono nuocergli, vadando soprattutto a non darlo a vedere. Parte della sicurezza risiede infatti nel non aspirarvi apertamente. Se uno fugge a una cosa, la condanna. Dobbiamo dunque vedere in che modo possiamo metterci al sicuro dalla massa. Per prima cosa cerchiamo di non avere i suoi stessi desideri. Tra rivali c'è sempre lotta. Inoltre, non dobbiamo possedere nulla che procuri un grande guadagno a chi voglia sottrarcelo. Porta indosso il minimo indispensabile di beni soggetti a furto. Nessuno versa il sangue di un altro per il gusto di uccidere, o almeno pochi. La maggior parte agisce più per calcolo che per odio. I banditi non assalgono uno che non ha niente con sé. Anche in una strada insidiata da malviventi, chi è povero può camminare tranquillo. Inoltre, secondo un vecchio precetto, ci sono tre cose da evitare con cura. L'odio, l'invidia, il disprezzo. Solo la saggezza può mostrarci come realizzare questo intento. È difficile tenere una giusta via di mezzo ed evitare che la nostra paura dell'invidia si porti ad essere disprezzati. E mentre non vogliamo calpestare nessuno, gli altri abbiano l'impressione che possiamo essere calpestati. Per molti fu causa di timore l'essere temuti. Abbandoniamo tutte queste posizioni. Il disprezzo altrui nuoce quanto la deferenza. Dobbiamo rifugiarci nella filosofia. Questa disciplina ispira un sacro rispetto non solo alle persone oneste, ma anche agli uomini non del tutto malvagi. L'eloquenza forense e qualunque altra cosa possa avere influenza sul popolo crea avversari. La filosofia, invece, pacifica e presa dalle sue occupazioni non può essere oggetto di disprezzo. Viene anzi tenuta in considerazione in tutte le professioni, anche dagli uomini peggiori. Mai la perversità sarà tanto potente, mai si congiungerà tal punto contro le virtù che il nome della filosofia non rimanga sacro e venerabile. Bisogna però occuparsene con serietà e moderazione. E allora, ribatti, ti sembra che Catone abbia esercitato la filosofia con misura quando respinse la guerra civile con la forza dei suoi discorsi, quando intervenne nella lotta dei capi furenti, quando, mentre alcuni si scagliavano contro Pompeo, altri contro Cesare, egli li attaccò entrambi? Qualcuno può mettere in discussione se a quel tempo il saggio avrebbe dovuto occuparsi di politica. Che vuoi, Marco Catone? Ormai non è più in gioco la libertà. Già da tempo è andata in malora. Il problema è se avrà il potere Cesare o Pompeo. Che hai a che fare con questa disputa? Niente. Si sceglie un padrone. Che ti importa chi vince? Può anche vincere il migliore, ma chi vincerà non può non essere il peggiore. Ho accennato all'ultimo periodo dell'attività di Catone, ma neppure negli anni precedenti il saggio poteva intervenire in quello scempio dello Stato. Che altro poteva fare Catone se non gridare e parlare in vano? Quando, sollevato dal peso del popolo e coperto da sputi, ora veniva trascinato via dal foro, ora veniva condotto dal Senato al carcere. Vedremo in seguito se il saggio debba partecipare alla vita politica. Richiamo intanto la tua attenzione su quegli stoici che, esclusi dagli affari pubblici, si ritirano a vivere in disparte e a dare agli uomini leggi al riparo dalla violenza dei potenti. Il saggio non porterà scompiglio nella moralità pubblica e non attirerà il popolo a sé vivendo in maniera singolare. E allora? Sarà completamente al sicuro chi seguirà questo modello di vita? Non posso garantirtelo. Come a un uomo temperante non posso garantire la salute, pur essendo la temperanza una valida premessa al benessere fisico. Qualche nave naufraga addirittura in porto. pensa a che cosa può accadere in mezzo al mare. Quanto maggiore sarebbe il pericolo per chi ha molte attività e si dà da fare se neppure vivendo appartati sia al sicuro. Da allora vanno a morte gli innocenti, chi lo nega, ma più spesso i colpevoli. Se un soldato è stato colpito attraverso l'armatura non è detto che non sappia combattere. Il saggio, infine, in ogni cosa guarda al proposito, non all'esito. Cominciare dipende da noi. Nel risultato, invece, dipende la sorte e io non le riconosco il diritto di giudicarmi, ma farà nascere contrattempi, avversità. Chi è colpevole non condanna. E ora tendi la mano per il dono giornaliero, ti la riempirà d'oro e poiché si è fatto cenno all'oro, senti in che modo puoi usarlo e goderne con maggiore soddisfazione. E la ricchezza gode soprattutto l'uomo che non ne sente affatto il bisogno. Dimmene l'autore, dici. Perché tu sappia quanto sono generoso, mi sono proposto di rodare le sentenze altrui. Si tratta di Epicuro o di Metrodoro o di qualche altro filosofo di quella scuola. E che importa chi l'ha detto? L'ha detto per tutti. Se uno sente il bisogno della ricchezza, teme di perderla. Ma nessuno può godere di un bene che gli dà preoccupazione. Cerca il modo di accrescerla e mentre pensa a incrementarla dimentica di farne uso. Fa i conti, passa tutto il suo tempo nel foro, consulta il libro dei crediti. Da padrone diventa amministratore. Stammi bene.